Tutta una questione di equilibri e di senso di lealtà politica sono le direttrici lungo le quali muove la riflessione di Ferdinando Zara che in consiglio regionale ha preso il posto di Eva Longo eletta in Parlamento. Zara è uno dei punti di riferimento di Fratelli d'Italia di Mondo e Cirielli e da quella postazione spiega come l'attività politica amministrativa in Regione Campania non abbia quasi conosciuto sosta, visto che già il 28 di agosto l'Assise si è riunita e tra l'altro per due importanti provvedimenti. Io credo che ci voglia molto senso di responsabilità nei confronti dei rapporti fra partiti che si sono codificati all'interno della stessa coalizione. All'interno del consiglio regionale il rapporto fra Fratelli d'Italia e PDL è normale, fisiologico nei rapporti interni al consiglio regionale, anzi l'affidabilità che diamo noi come gruppo anche se esiguo di due consiglieri Fratelli d'Italia nei confronti dei rapporti con il PDL all'interno del consiglio è perfettamente stabile. Tutto il resto sono agitazioni, io le definisco pre-elettorali, sia quelle per il consiglio regionale, sia quelle per le europee o per le diverse elezioni amministrative. Non credo che ci sia stata molta interruzione estiva per il consiglio regionale, perché il primo consiglio che abbiamo fatto lo abbiamo fatto già il 28 per approvare due provvedimenti importanti, tre provvedimenti importanti che io ritengo fondamentali, quello della legge sulla caccia, che lei saprà sicuramente, saranno sicuramente anche chi ci ascolta, quello sul finanziamento per l'editoria locale, molto interessante, e sulla trasparenza e sull'acquisizione dei dati, dei documenti della regione da parte dei cittadini. Quindi sono state variate tre leggi importanti e devo dire che nella mia breve esperienza che il consiglio regionale in quanto tale, soprattutto per quanto riguarda la promulgazione delle leggi, è molto valido e si lavora molto, diciamo, fra virgolette. Esiste poi la parte amministrativa, cioè quella dei flussi finanziari comunitari, che io ritengo, dopo un brevissimo giudizio, che è abbastanza lenta e faragginosa, legata ad un apparato burocratico molto esteso e variegato, e su questo credo che Caldoro fino ad adesso non abbia preso provvedimenti necessari e sufficienti. Lo solleciteremo, ma per quello che mi riguarda ritengo i diversi settori abbastanza in preda, di funzionari che hanno una vecchia impostazione concettuale.